Ciao ragazzi, come vedete sono in macchina, fa un caldo torrido, torrido proprio, cioè veramente un caldissimo. Comunque allora, Napoli che pareggia, pareggia malamente con il Torino 2-2, il Napoli che poteva vincere la partita, secondo me, tranquillamente, se l'è complicata da solo, una partita da fine stagione, peccato che la stagione non era ancora finita per gli azzurri, quindi partita che consegna quasi matematicamente lo squetto alla Juve. A livello di punti il Napoli non può più fare più punti della Juve, non può più fare più punti della Juve, quindi il Napoli deve sperare in due sconfitte della vecchia signora e poi fare una catervata di gol, perché la Juve ha 16 punti, 16 gol di vantaggio, cioè più 16 di differenzialetti rispetto al Napoli. Vuol dire dover vincere 8-0, 8-0, calcoliamo che la Juve le perda tutte e due, le perda 3-0, 3-0, deve vincere tutte e due 5-0, oggettivamente è molto, molto difficile. Diciamo che questo è il game over, questo forse è la giornata della chiusura del campionato italiano. Fortuna che non è arrivata la matematica perché non mi sarebbe piaciuto vincere un sì divano. Spero di vincere domenica a Roma, basterebbe o un pareggio, intanto la Juve adesso a proposito, la Juve basterebbe un pareggio in due partite, quindi proprio se o se no proprio un falso falso del Napoli, cosa non troppo poco scontata, potrebbe settimana prossima, domenica a quest'ora potremmo già festeggiare il titolo della Juventus. Io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video che andremo appunto stasera dove farò insomma un riassunto della Serie A. Ciao!